Ragazzi, mancano tre persone su Free Fire, ho fatto 16 kill, cerchiamole. Le ho viste, sono lì nel longoretto. Sono lì dietro. Qui dentro. No. Mi fanno tenerezza perché sono troppo scarsi, cioè. Madonna, quanto è scarso. Uno di uno, ragazzi. Un spray. Oh, go boy. Ho vinto. Ho vinto. Ciao. Ciao. Ciao.